Le stesse ci sono state, ci sono e se non aumenta il numero della presenza delle forze dell'ordine nel nostro territorio rischieranno di esserci ancora. Ma io sono molto fiducioso anche degli esiti dell'ultimo comitato provinciale dell'ordine della sicurezza pubblica perché sono state prese delle decisioni davvero importanti all'esito del gravissimo episodio che è accaduto vicino al lungomare l'altro giorno. Quindi l'impegno è davvero massimo delle forze di polizia, lo posso constatare, l'impegno nostro, ma anche l'impegno della stragrande maggioranza dei napoletani che ormai sono orgogliosi e fieri del fatto, come riconoscono ormai tutti, che siamo primi per crescita culturale e turista. Quindi quella è proprio una fotografia di Napoli che non deve appartenere a questa città. Ci saranno sempre i criminali, ci saranno sempre i violenti, ma li dobbiamo ridurre sempre di più al lumicino.